Ed eccoci alla pagina sportiva l'Europa League, un pareggio ed una vittoria, questo il verdetto per ciò che concerne le formazioni italiane. Per la Roma, pareggio amaro in terra austriaca contro la formazione del Wolfsberger. I giallorussi erano passati in vantaggio con Spinazzola nel primo tempo, mentre al sesto della ripresa era arrivato il pareggio austriaco con Wolfsberger. Per ciò che concerne invece la Lazio, un bella rimonta dei ragazzi di Simone Inanzaghi che sembravano destinati ad un'altra serata negativa. I bianco celeste hanno dovuto subire il gol francese di Rennes per poi riprendersi prima con la rete di Milinkovic e Savic e poi a un quarto d'ora dal 10 con la rete definitiva di Ciro Immobile. Intanto per quanto riguarda il campionato di Serie A è stata rinviata la sfida tra Brescia e Sassuolo, la decisione presa in accordo dopo la morte del patron del Sassuolo Squinzi, tra l'altro ex presidente di Comindustria. E' tutto per questa edizione di Nuovo Giorno, per ora ci proviamo qui con la nostra informazione che tornerà come sempre a metà giornata con il TG Flash. A più tardi.